Nel mese di dicembre, la vita al Palazzo della Promessa viene sconvolta dal ritorno inaspettato di Ximena de los Infantes. La sua presenza getta nello scompiglio gli equilibri delicati che si erano instaurati in sua assenza. Manuel, suo marito, rimane profondamente turbato. Il suo cuore ormai appartiene a Gianna, ma il ritorno di Ximena riapre ferite che pensava fossero ormai guarite, specialmente in Catalina. Ximena arriva al palazzo con un'aura di determinazione e mistero. I suoi occhi scrutano ogni dettaglio, ogni persona, cercando di cogliere le reazioni al suo ritorno. Appena varca la soglia, i servitori smettono di parlare, sorpresi dalla sua presenza. Si dirige senza esitazione verso la stanza di Manuel, reclamando il suo posto di moglie. Trova la stanza vuota, ma non si lascia scoraggiare. Si siede sul letto, accarezzando il cuscino, come a riappropriarsi del suo spazio. Proprio alla fine di questo video, troverai un'anticipazione speciale di ciò che accadrà prossimamente, se ancora non sei iscritta. Iscriviti ora al canale, per non perderti le anteprime. Manuel, nel frattempo, viene informato del suo arrivo da un servitore. Il sangue gli si gela nelle vene. Non si aspettava di rivederla, e non sa come affrontarla. Si rifugia nello studio, cercando di raccogliere i suoi pensieri. Yana, percependo il suo turbamento, lo raggiunge. «Cosa succede?» chiede preoccupata. Manuel la guarda con occhi colmi di preoccupazione. «Gimena è tornata», risponde a bassa voce. Yana rimane senza parole, sentendo il cuore sprofondare. Jimena inizia a muoversi nel palazzo come se non fosse mai andata via. I domestici la osservano con curiosità, mista a timore. Alcuni sussurrano tra loro, ricordando le tensioni del passato. La Marchesa Cruz accoglie Jimena con un sorriso enigmatico. «Bentornata, cara. Il palazzo è di nuovo al completo», dice abbracciandola leggermente. Ma dietro quel sorriso si nasconde un piano. Cruz vede in Jimena uno strumento per ristabilire l'ordine che desidera. Catalina, d'altra parte, vive momenti di intensa ansia. Il senso di colpa per aver tentato di eliminare Jimena attraverso un incendio la divora dall'interno. Ogni volta che incrocia lo sguardo di Jimena, avverte una fitta allo stomaco. Jimena, percependo il suo disagio, la osserva con sguardo penetrante, quasi sfidandola a confessare. Durante un incontro casuale nel corridoio, Jimena le dice con voce melliflua. «È bello essere di nuovo a casa». «Mi sei mancata, Catalina». Catalina deglutisce, incapace di rispondere, e si allontana rapidamente. Il medico Abel decide di intervenire nella situazione delicata tra Manuel e Jana. Si presenta da Manuel, confessando «Ho commesso un errore nel giudicare la tua relazione con Jana. Voglio rimediare». Manuel lo guarda con sorpresa. «Perché questo cambiamento?» chiede. Abel sospira. «Ho capito che l'amore vero non può essere ostacolato. Voglio aiutarvi». Tuttavia, l'arrivo di una misteriosa donna, Lady Bugiarda, complica le cose. Abel la incontra in segreto nei giardini. «Non dovevi venire qui», le dice preoccupato. Lei sorride maliziosamente. «Abbiamo degli affari in sospeso, Abel». Ximena, notando il distacco di Manuel, decide di agire. Organizza una cena privata nella loro stanza, adornando la tavola con candele e fiori. Indossa un abito elegante, sperando di attirare la sua malattenzione. Quando Manuel entra, rimane sorpreso. «Che significa tutto questo?» chiede con tono teso. Ximena gli si avvicina, sfiorandogli il braccio. «Voglio recuperare il tempo perso. Siamo marito e moglie». Manuel si ritrae leggermente. «Molte cose sono cambiate», risponde. Ximena insiste. «Possiamo ricominciare». La situazione precipita durante una serata di gala organizzata al palazzo. Gli ospiti riempiono le sale, tra risate e conversazioni animate. Ximena cerca di stare al fianco di Manuel, ma lui mantiene le distanze. Ad un certo punto, Yana entra nella sala, attirando l'attenzione con la sua eleganza discreta. Manuel non riesce a distogliere lo sguardo da lei. Ximena nota questo scambio e una fiamma di gelosia si accende nei suoi occhi. Decide di affrontare Manuel in pubblico. «Chi è lei per te?» chiede con voce ferma. Gli ospiti si zittiscono, le loro attenzioni rivolte alla coppia. Manuel, sentendosi messo alle strette, risponde «è la donna che amo». Un mormorio attraversa la sala. Ximena, umiliata, esclama «Come osi umiliarmi così? Sono tua moglie!» Manuel ribatte «Un matrimonio basato sulla menzogna non può durare». I genitori di Ximena, i duchi dello Sinfantes, vengono informati dello scandalo. Arrivano al palazzo il giorno seguente, furiosi. «Questo è inaccettabile», tuona il duca, rivolgendosi ad Alonso, il padre di Manuel. «Vostro figlio ha disonorato nostra figlia». Alonso cerca di calmare gli animi, ma la situazione è tesa. Abel decide di intervenire, rivelando «C'è qualcosa che dovete sapere. La gravidanza di Ximena era falsa. Questa confessione lascia tutti sbigottiti». La duchessa guarda Ximena con sguardo interrogativo. «È vero?» Ximena abbassa lo sguardo, incapace di rispondere. Nel frattempo, Catalina continua le sue indagini sull'affari di Lorenzo. Scopre documenti compromettenti che attestano il coinvolgimento del cognato nel traffico di armi con Mr. Cavendish. Una notte decide di seguire Lorenzo di nascosto. Lo vede incontrarsi con Cavendish in un magazzino abbandonato. «La prossima consegna deve avvenire senza intoppi», dice Cavendish con tono minaccioso. Lorenzo annuisce nervosamente. Catalina, nascosta dietro delle casse, ascolta tutto con il cuore che batte all'impazzata. Tornata al palazzo, Catalina decide di confrontarsi con Alonso. «Abbiamo un problema serio», gli dice, mostrandogli documenti. Alonso, leggendo le prove, si sente tradito. «Come ha potuto Lorenzo coinvolgerci in qualcosa di così pericoloso?» Esclama. Decidono di affrontarlo insieme. Lorenzo, messo alle strette, cerca di giustificarsi. «L'ho fatto per incrementare le nostre ricchezze», afferma. Ma Alonso non accetta scuse. «Hai messo in pericolo la famiglia. Questo è imperdonabile». Nel frattempo, Maria Fernandez vive un turbinio di emozioni. Convinta di essere incinta, confida le sue paure a Teresa. «Non so cosa fare», dice con voce tremante. Teresa la abbraccia. «Parlane con Salvador». «Lui ti sosterrà». Salvador, intuendo il suo stato d'animo, organizza una sorpresa. La conduce nel giardino, dove ha allestito un piccolo altare decorato con fiori. «Voglio prometterti il mio amore eterno», le dice, inginocchiandosi. Maria si commuove. Le lacrime le rigano il viso. «Sei l'uomo più meraviglioso che abbia mai conosciuto». Ma la felicità è di breve durata. Salvador scopre che la sua valigia con tutti i suoi risparmi è scomparsa. «Non può essere», esclama, frugando disperatamente nella stanza. I sospetti cadono su Vera, una domestica che aveva mostrato interesse per il denaro. Lope, amico di Salvador, decide di aiutarlo a indagare. «La verità verrà a galla», gli assicura. Virtudes, intanto, si sente sempre più oppressa dal lavoro al palazzo. Gli attacchi di panico diventano frequenti. Un giorno, mentre serve il tè in salotto, inizia a respirare affannosamente. Il vassoio le scivola dalle mani, le tazze si infrangono al suolo. Simona accorre immediatamente. «Tesoro, cosa succede?», chiede preoccupata. Virtudes, tra le lacrime, confessa. «Non ce la faccio più. Questo posto mi soffoca». Decide di lasciare il palazzo per ritrovare la serenità. Simona, seppur addolorata, la sostiene nella sua scelta. Il conte Ayala continua a corteggiare Margarita, suscitando la gelosia di Petra. Una sera, durante un ballo, Ayala invita Margarita a danzare. Petra li osserva da lontano, il cuore stretto dal dolore. Decide di affrontare Ayala. «Cosa significa tutto questo?», chiede con voce tremante. Ayala la guarda con sguardo serio. «I miei sentimenti per te sono autentici, ma ho bisogno di avvicinarmi a Margarita per questioni personali». Petra, confusa, si allontana senza dire una parola. Jimena, decisa a scoprire chi sia la donna amata da Manuel, inizia a seguirlo. Lo vede incontrarsi con Gianna nei giardini. Si nascondono tra le siepi, scambiandosi sguardi affettuosi. Lei «Non posso più nasconderti», dice Manuel, prendendo le mani di Gianna. «Voglio stare con te apertamente». Jimena, osservando la scena, sente il cuore spezzarsi e un odio profondo crescere dentro di… Decide di confrontare Yana. Un pomeriggio, la sorprende nella serra. «Allora sei tu», dice con tono gelido. Yana si volta sorpresa. «Non so di cosa parli», risponde. Jimena si avvicina minacciosamente. «Hai rubato mio marito, ma non la passerai liscia». Yana, mantenendo la calma, replica «Non ho rubato nulla, l'amore non può essere rubato». Le due donne si guardano intensamente, la tensione palpabile nell'aria. Nel frattempo, Mr. Cavendish, irritato dalle interferenze, decide di eliminare chiunque ostacoli i suoi piani. Catalina viene a sapere che Cavendish ha ordinato l'omicidio di Don Pelaio. Decide di avvertirlo. «Devi lasciare la città immediatamente», gli dice con urgenza. Don Pelaio, riconoscente, accetta il consiglio. Ma Cavendish non si ferma qui. Punta gli occhi su Catalina, considerandola una minaccia. Alonso, resosi conto del pericolo imminente, decide di prendere misure drastiche. «Dobbiamo denunciare Cavendish alle autorità», afferma. Lorenzo, temendo per la sua vita, implora «Se lo facciamo, mi coinvolgeranno. Potrei finire in prigione». Alonso è irremovibile. «Hai scelto il tuo destino». La tensione al palazzo raggiunge il culmine. Manuel decide di parlare con Ximena una volta per tutte. La trova nella loro stanza, seduta vicino alla finestra. «Dobbiamo risolvere questa situazione», inizia. Ximena lo guarda con occhi lucidi. «Non c'è più nulla da dire», sussurra. «Hai fatto la tua scelta». Manuel annuisce. «Mi dispiace per il dolore che ti ho causato, ma non posso vivere una menzogna». Ximena, con un filo di voce, chiede «L'hai mai amata davvero?». Manuel riflette per un attimo. «Non come amo Giana». Ximena, consumata dalla gelosia, inizia a pianificare una vendetta. Catalina deve proteggere se stessa e la sua famiglia dalle minacce di Cavendish. Alonso si prepara ad affrontare uno scandalo pubblico pur di fare la cosa giusta. Giana, pur amando Manuel, teme per la sicurezza di entrambi. Il mese di dicembre alla promessa si conclude con molte domande in sospeso e un futuro incerto per tutti. Le emozioni sono intense, gli intrighi si infittiscono e le relazioni vengono messe a dura prova. Ogni scelta fatta dai personaggi avrà ripercussioni profonde sulle loro vite. Grazie per aver seguito queste dettagliate anticipazioni. Non perdetevi i prossimi episodi per scoprire come si evolveranno le vicende alla promessa. Iscrivetevi al canale e lasciate un like per rimanere aggiornati su tutte le novità.